Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'accorata lettera scritta dalle mogli degli ex operai dello stabilimento Eni e Digela rivolta al governatore della Sicilia Rosario Crocetta chiedono interventi concreti, sono stanche e deluse da promesse al momento attuale non mantenute agli inizi del mese promuovendo una fiaccolata erano scese in piazza per chiedere aiuti concreti il lavoro è dignità, vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare loro sono le mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni e Digela stanche e deluse di ascoltare solo promesse adesso assieme ai rappresentanti del movimento Rosa per la rinascita di Gela hanno preso carta e penna e hanno scritto al presidente della regione il gelese Rosario Crocetta siamo donne, madri, compagne, figlie che lottano ogni giorno per la grave crisi che attanaglia la nostra città scrivono dopo la chiusura della raffineria molti operai dell'indotto sono rimasti ancora oggi senza lavoro pur facendo parte della lista di disponibilità alla quale si sarebbe dovuto attingere e che invece sono rimaste lettera muta e sorda per non aggiungere altro rivolgendosi a Crocetta scrivono che molti lavoratori già hanno lasciato Gela per garantire un minimo di sopravvivenza ai propri figli in questa tragedia sono coinvolte altre famiglie, altri settori commercianti, agricoltori edili nessun settore è immune la crisi è di tutti e paradossalmente siamo soli, tutti una città semivuota e senza lavoro diventa ostaggio della criminalità sempre più spietata e ingovernabile noi siamo degli onesti cittadini che non si vogliono arrendere che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti e che amano la propria città Gela che anche la sua rivolgendosi al governatore non volga lo sguardo altrove adesso noi non meritiamo tutto questo e siamo convinte che anche lei ne è cosciente abbiamo bisogno di aiuto concreto, propositivo, non procrastinabile l'urgenza della situazione è sotto gli occhi di tutti siamo stanche di essere invisibili siamo stanche di fingere davanti ai nostri figli per non trasmettere loro il nostro dramma siamo stanche di combattere contro ogni forma di isolamento ed emarginazione sociale abbiamo trascorso, si legge nella nota un Natale durissimo, amaro, senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, senza futuro ma non vogliamo tranciare quel flebile filo di fiducia che persiste nella politica e nelle istituzioni le donne chiedono al governatore Crocetta un incontro per esporre compiutamente e discutere finalmente in maniera esaustiva dei problemi che sono poi quelli di un'intera città e di riflesso anche del governatore che di questa città è nobile figlio sono i carabinieri che indagano su quanto accaduto la scorsa notte intorno alle 2 in uno stabile di via Navarra a Gela un medico di 60 anni è stato rapinato all'interno della sua abitazione ad agire è stato un malvivente con il volto travisato che ha fatto irruzione nell'appartamento dopo averlo minacciato ed aggredito fisicamente il rapinatore ha arraffato tutto quello che ha trovato ovvero monili e denaro poi è scappato via il medico è stato riflessato in ospedale anche i cittadini ingelesi con un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a 8.107,5 euro possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche lo rende noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia a Bela il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro grazie ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico resta invariato a non oltre 20.000 euro di sé il requisito di accesso per le famiglie numerose per presentare domanda di agevolazione per il bonus energia è possibile utilizzare l'Isee standard o ordinario e l'Isee corrente valido due mesi nel caso in cui siano intervenute variazioni significative nella situazione reddittuale e adesso parliamo dell'inaugurazione oggi nel carcere di Gela di uno spazio colloqui una stanza dedicata ai minori che incontrano il genitore recluso l'iniziativa è del Soroptimist Club uno spazio colloqui, una stanza dedicata ai minori che incontrano il genitore recluso si trova all'interno della casa circondariale di Contrada Balate a Gela l'inaugurazione è avvenuta oggi grazie all'iniziativa del Soroptimist Club preseduto da Maria Grazia Falconeri il progetto nasce da questa esigenza e a livello nazionale sono nati di questi spazi colloqui sono nati un po' in tutte le parti d'Italia nelle varie case circondariali o all'esterno o all'interno e si unisce ad altri progetti nazionali tipo abbiamo realizzato la stanza tutta per sé dai carabinieri per le donne vittime di violenza che denunciano e quindi hanno bisogno di un ambiente favorevole e anni fa abbiamo realizzato pure la stanza al tribunale per un'aula d'ascolto protetto le soge hanno dato spazio alla loro creatività al loro impegno dipingendo con dei murales le pareti proprio per dare una modalità di approccio a questo luogo che per il bambino può essere potenzialmente traumatico diverso che in maniera da fare la differenza anche per il minore la stanza è stata ristrutturata e abbellita in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria con fondi della Soroptimist Club il progetto e la direzione portano la firma dell'architetto Marilena Rampanti abbiamo avuto la possibilità anche di muovere un po' la tramezzatura per creare uno spazio più ampio e poi di conseguenza si è creato sia con il pavimento che con la colorazione di dare una regola e un ambiente più accogliente il discorso della regola, la pulizia delle forme e anche delle geometrie penso che sia stata la linea di conduzione di tutto il progetto il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco bambini e genitori potranno vivere una genitorialità più facilitata non è il massimo perché siamo in carcere e dopo i controlli di rito si entrerà soprattutto i bambini avranno la sensazione di entrare in una stanza bella, nuova, differente come se fosse una sala da te, quasi e questo è l'ennesimo frutto di questa attenzione che la città di Gela, il terzo settore, l'associazione di volontariato il Sor Optimus che ha un progetto nazionale ha nei confronti del carcere e di ciò che rappresenta il carcere un presidio di legalità che però non dimentica l'umanità e la dignità della persona I vaccini, un invito a riflettere sulla disinformazione sulla dilagante paura del loro impiego è il tema che sarà trattato domani alle 16 nei locali della scuola Enrico Solito di Gela nell'ambito di un convegno organizzato in collaborazione con il Chivanis Club interverranno tra gli altri il dirigente scolastico Crizia Nobile il presidente del Chivanis Vincenzo Patti ed alcuni dottori modererà i lavori Rita Domicori, pediatra di famiglia le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva la misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli, disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro i cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali domenica 22 gennaio dalle 9.30 nel sanone del Museo di Ocesano del seminario Giovanni Speciale, la sezione nissena dell'Associazione della Stampa celebrerà i 70 anni della propria Costituzione con la presentazione di un volume La Stampa racconta la storia che ripercorre le vicende del giornalismo locale con alcuni saggi sulla storia della stampa nella nostra provincia La Stampa racconta la storia che un po' vuole documentare come in questi 70 anni i giornalisti nisseni, nisseni di nascita o di adozione sui giornali di tutta Italia, non soltanto sui giornali locali hanno tramandato la narrazione della storia del nostro territorio e della nostra società Oggi va molto di moda il termine storytelling, narrazione e dobbiamo essere responsabili del fatto che i giornalisti costruiscono anche le fonti della storia del futuro e rileggere oggi dopo 70 anni quello che è stato scritto dai nostri colleghi negli anni precedenti in momenti estremamente ricchi di eventi storici di processi di trasformazione ci permette di ricostruire una storia impegnativa anche per oggi Abbiamo trovato tra le firme dei nostri colleghi personalità di rilievo eccezionale Sono stati i giornalisti nisseni, Giuseppe Alessi, Leonardo Sciaccia anche Mario Farinella, editori come Salvatore Sciaccia e sono giornalisti nisseni dei colleghi che sono diventati direttori di testate nazionali e che saranno celebrati e festeggiati nel nostro evento di domenica Nel corso dell'evento verranno inoltre consegnati riconoscimenti alla carriera ai colleghi che sono iscritti all'albo da oltre 40 anni da 25 a 30 e dai colleghi nisseni che sono diventati direttori di testate a livello nazionale La stampa nissena ha espresso in questo senso esperienze nazionali rilevanti come Enzo D'Antona come Emanuele Macaluso, Giorgio Mulè, Claudio Sardo, Antonio Sciorchino Si tratta di un compleanno importante e bisogna dire che l'Associazione Siciliana della Stampa la sezione di Caltanissetta è anche molto più antica, molto più vecchia rispetto all'ordine dei giornalisti che venne istituito nel 1963 è un momento che non poteva passare senza un momento di riflessione soprattutto con la chiamata, la convocazione a raccolta da parte dei giornalisti più anziani della provincia di Caltanissetta che hanno fatto anche la storia di questa professione Al termine alle 11.45 sarà celebrata una messa nella cappella maggiore del seminario nella ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti La formazione al liceo artistico Majorana Vigela parte dalla ricerca della bellezza e questo l'originale progetto destinato a 50 docenti dell'istituto scolastico retto da Mirella Disvestre che ha accolto con grande entusiasmo la proposta progettuale della professoressa Tiziana Nozzetti coordinatrice del percorso formativo inaugurato il 16 gennaio nell'auditorium della scuola L'attività formativa prevede un ciclo di incontri preseduti da docenti universitari da associazioni culturali ed istituzioni pubbliche con la passione per l'arte e la cultura contemporanea inoltre saranno coinvolti nelle varie attività gli alunni del liceo artistico Majorana Ha collaborato alla realizzazione del progetto la professoressa di storia dell'arte Rosa Maria Corbo docente del liceo artistico La riflessione sulla bellezza nel corso dei secoli ha evidenziato un dato di fatto la percezione del bello è innanzitutto un'esperienza personale Domani alle 11 si trarrà nei locali del quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela retto da Cetta Mongelli l'iniziativa Parents and Teachers incontriamoci per conoscerci sarà l'occasione per presentare il piano dell'offerta formativa e sabato 21 gennaio alle 9.30 si trarrà la presentazione della scuola Suor Teresa Valsè e delle sue attività sempre sabato 21 open day all'istituto tecnico settore tecnologico Emanuele Morselli di via Pitagora sempre a Gela Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione cosa conferire? bottiglie prive di tappi fiaschi senza paglia barattoli e vasetti bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo vetri vari anche se rotti contenitori vari in vetro per alimenti e non senza tappi e o altri materiali diversi depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto eccoci seconda parte del telegiornale sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis per iscrizione ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio prossimo presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana 23 oppure chiamandolo 0933 938312 sono aperte le iscrizioni al primo corso sub ex rec dell'anno 2017 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato entro questo mese e si svolgerà presso la sede della Confcommercio a Scomogela in via Cicerone 104 tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il 23 gennaio presso la segreteria della Confcommercio dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà una maratona di eventi culturali lunga una sera quella che si terrà sabato 28 gennaio a partire dalle ore 20 al centro culturale polivalente Michele Abbate e appunto è a capo la manifestazione promossa dall'associazione culturale anzichitanza e dall'assessorato alle politiche giovanili grazie alla collaborazione di numerosi artisti e altre realtà associative quali Camurria, Genius Eloce Architettura la riserva naturale Lago Sfondato la rete degli studenti medi e il circolo Arci Out un augurio a vivere un anno ricco di eventi e avventure da condividere tra associazioni e cittadini a condurre la serata Donatello Polizzi affiancato dagli ottoni Sound Ancora una volta vogliamo dare il nostro contributo alla città ancora una volta abbiamo coinvolto più persone possibili associazioni possibili artisti possibili per ricominciare da questo punto e a capo quale migliore occasione per andare a realizzare al centro culturale Michele Abbate un centro di acquidenza per l'arte anche per l'arte quindi da lì noi vogliamo dare il nostro e invitiamo a tutte le persone a dare il loro punto a capo il loro punto di vista di fatto abbiamo invitato moltissime associazioni nissene che spiegheranno i loro progetti e con cui si spera di iniziare un percorso lavorativo e creativo per questo 2017 una manifestazione che punta a valorizzare la creatività e a portare nuova linfa vitale in città che è stata sposata dall'amministrazione comunale l'amministrazione ha deciso di sposare questa manifestazione ma l'amministrazione ha intenzione di appunto sostenere tutte quelle che saranno delle manifestazioni che avranno come punto principale appunto un coinvolgimento del mondo giovanile in un momento in cui i giovani purtroppo li ritroviamo lontani dagli enti locali in particolar modo l'assessorato alle politiche giovanile ha intenzione di sostenere appunto tutte queste iniziative ovviamente iniziative valide che coinvolgono il maggior numero di persone possibili noi già da due anni abbiamo realizzato diverse manifestazioni piazza a colori strada da foglie in fest adesso abbiamo avuto finalmente riscontro da parte dell'amministrazione cosa che troviamo giusta anche perché è giusto che ci sia un investimento sul territorio e sulle manifestazioni che noi molto modestamente crediamo di poter far bene di portare un po' di persone di far conoscere il locale di realizzare dei momenti magari non di alta cultura ma magari popolari nazional popolare ma sicuramente momenti di aggregazione momenti di arte momenti positivi e noi ne abbiamo veramente bisogno in questa città quindi vi aspettiamo giorno 28 ingresso gratuito dall'evento in poi punto e a capo punto e a capo con l'istituto scolastico diretto da Angela Tuccio dialogherà con l'autore Lella Oresti introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando è previsto l'intervento del pittore Giovanni Iudice continuano gli appuntamenti inseriti nell'ottantatresima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 22 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto lirico del trio Giovanna Nuara soprano Giuseppe Infantino tenore e Salvatore Gaglio al pianoforte e ora parliamo di ginnastica con la convocazione nella squadra nazionale di cheerleading della giovane atleta gelese Mara Gueli di 16 anni c'è aria di festa in casa della Gymnastic Club Gela per la convocazione nella squadra nazionale di cheerleading della giovane atleta Mara Gueli di 16 anni dopo la selezione dello scorso dicembre a Palermo sono state individuate 30 atlete in tutta Italia e tra queste c'è Mara Gueli allenata da Simona Scerra è stata una bella esperienza soprattutto potermi confrontare con gli atleti più forti d'Italia del cheerleading non mi aspettavo di essere selezionata però è stata è stato molto emozionante mi sono trovata molto bene con le mie compagne di squadra con cui sono cresciuta però sarà una bella esperienza fare nuove amicizie con atleti di tutta Italia una vittoria condivisa che abbraccia e coinvolge tutti i genitori il team della Gymnastic Club compagni di squadra e tutta la città perché bisogna essere orgogliosi di avere una concittadina che veste la maglia azzurra Mara Gueli parteciperà il prossimo luglio dal 21 al 28 ad una gara internazionale in Cina noi quello che cerchiamo di coltivare su questi ragazzi sono proprio quello dei sogni sognare e pensare di potercela fare tra le altre cose uno dei nostri obiettivi è proprio quello di costruire le ali che gli permettono di crescere in maniera corretta lei ha preso le ali che gli permetterà di volare in Cina a queste gare internazionali visto che fa parte della squadra nazionale italiana del cheerleading sulla scia di quello che da qualche anno è lo slogan del gelacalcio la vita sarà da sedigela ed il club biancazzurro scendono in campo per promuovere il nobile gesto della donazione del sangue l'iniziativa vedrà atleti tecnici e dirigenti della società sportiva gialese presenti domani alle 9 presso l'unità di raccolta della FIDAS in via degli Appennini per una mattinata dedicata ai test preliminari per la donazione del sangue e come testimonial per la cultura del dono la squadra allenata dal tecnico Pietro Infantino quel sangu mio che incrocia gli alti valori dello sport e a quello di appartenenza alla comunità gelese ha deciso di impegnarsi affinché ci siano sempre più donatori in città contribuendo così a salvare sempre più vite appuntamento dunque a domani per questa bella sinergia tra il club biancazzurro e l'associazione di volontariato preseduta da Enzo Emanuello che da decenni si occupa della promozione e della raccolta del sangue e degli emocomponenti quarto memorial di calcio dedicato a Pino Morinello si darà lunedì 23 gennaio alle 17.30 al campo Vincenzo Presti di Gela l'iniziativa è patrocinata dalla comune in collaborazione con l'associazione Santa Lucia Soccorso e con il gruppo Vecchie Glorie l'ingresso è gratuito la pagina del cinema all'antitolo di Macchitella Gela oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2 e sabato 21 gennaio al teatro comunale Eschilo di Gela Enrico Guarneri porterà in scena l'Avaro di Molière per la regia di Antonello Capodici appuntamento alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per quelli del turno A i biglietti hanno un costo di 12 euro per informazioni il botteghino è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 ci sono due numeri telefonici 0933 91 1892 e 345 58 80 580 con la pagina dello spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi vi rimandiamo alle prossime edizioni e vi ricordiamo inoltre di consultare il nostro sito aggiornato all'indirizzo tg10.it grazie e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.